Il calcio, secondo video, proseguiamo il discorso affrontato l'altra volta, stavolta parleremo dei fondamentali del calcio, di pallone in gioco, pallone non in gioco, falli scorrettezze, calci di rigore e calci di punizione. Infine, ripulogheremo tutto quanto attraverso una mappa concettuale. Cominciamo quindi parlando dei fondamentali del calcio. Come in tutti gli sport di squadra, anche il calcio prevede alcuni elementi tecnici fondamentali. Essi sono il passaggio, il dribbling, il colpo di testa, il tiro in porta, lo stop. Vediamoli uno per uno, cominciando col passaggio, che è il gesto tecnico che ha lo scopo di far scorrere il pallone tra i calciatori della stessa squadra. Si passa la palla per servire un compagno meglio posizionato, oppure quando si è in difficoltà per disfarsi del pallone prima di venire contrastati da un avversario. Il passaggio più comune viene effettuato colpendo il pallone con l'interno del piede ed è detto passaggio di piatto, come quello effettuato qui da Andrea Pirlo. Poi abbiamo il dribbling che è la tipica azione che il calciatore utilizza per liberarsi dell'avversario che gli impedisce di avanzare. Spesso il dribbling si accompagna a finte di corpo e o di gambe per disorientare l'avversario. Messi in mezzo tra avversari e sta cercando ovviamente di dribblarli. Il colpo di testa si basa nel colpire la palla con la testa e precisamente con la fronte. È un fondamentale molto utilizzato dai difensori per allontanare situazioni di pericolo senza preoccuparsi troppo della precisione del colpo. Ma anche gli attaccanti lo usano con una certa frequenza perché permette loro di indirizzare verso la porta i passaggi alti, i cosiddetti cross. Qui vedete un colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Notate l'elevazione. Il tiro in porta è uno dei fondamentali indispensabili per realizzare un gol. Vi sono molti modi di tirare. Quelli più spettacolari sono il tiro d'effetto, il tiro al volo e la rovesciata fatta con le spalle alla porta avversaria. Qui vediamo un tiro di sinistro di Ciro Immobile. Lo stop ha lo scopo di controllare la palla mediante il blocco della sfera. Serve per addomesticare il pallone che ci è stato servito da un compagno o che abbiamo intercettato agli avversari prima di rigiocarlo con più padronanza. Lo stop può essere eseguito con i piedi ma anche con il petto o la coscia. Ibrahim, vicino all'allenamento. Intento uno stop di petto. Pallone in gioco, non in gioco. Tutte le linee disegnate sul campo di gioco sono parte dell'area che delimitano. Il pallone quindi deve superare totalmente la linea laterale o di fondo per essere considerato fuori dal gioco e deve superare totalmente la linea di porta per essere considerato in rete. Ecco, un classico esempio di gol non gol. La palla ha completamente superato la linea di porta, in questo caso affermativo è rete, in caso negativo no. Adesso abbiamo anche la tecnologia ad aiutare i direttori di gara a interpretare correttamente situazioni di questo tipo. Falli e scorrettezze. Sono tre i motivi per cui un calciatore ma anche un allenatore o un dirigente presente in panchina può essere punito e sono la cattiva condotta, il gioco violento o le proteste. Le vedete esemplificate in queste tre immagini. Un arbitro può punire l'autore della scorrettezza estraendo il cartellino giallo come ammunizione o il cartellino rosso che comporta l'espulsione del giocatore. Calci di punizione e calci di rigore. L'arbitro fischia un calcio di punizione a favore della squadra che subisce fallo. La squadra che difende può formare una barriera la cui posizione e composizione viene decisa dal portiere, mentre la sua distanza minima deve essere 9,15 m dal punto di battuta. Messi che tira un calcio di punizione. Vedete la barriera e il portiere posizionato a coprire l'altro palo, quello lontano. Quando il fallo avviene nell'area di porta avversaria, alla squadra che ha subito il fallo viene assegnato un calcio di rigore. Segnare un rigore è relativamente facile. L'attaccante deve tirare dal dischetto situato a 11 m dalla porta, davanti a sé non ha avversari, se non il portiere che però può muoversi solateralmente lungo la linea di porta e non in avanti. Qui vedete Roberto Baggio che ha tirato e sbagliato forse il rigore più famoso della nostra storia calcistica, la finale dei campionati mondiali nel 1994 contro il Brasile. In seguito a quell'errore il Brasile vinse la Coppa e l'Italia fu sconfitta in finale. Concludiamo con una mappa concettuale, il calcio. Abbiamo parlato del campo da gioco, delle regole del gioco, dei ruoli, quindi sono il portiere, difensore, centrocampista, attaccante, abbiamo parlato dell'arbitro, dei falli e scorrettezze che riguardano la cattiva condotta, il gioco violento, le proteste, le sanzioni che possono essere individuali o di squadra, individuali vengono punite con la munizione o l'espulsione di squadra con il calcio di punizione o il calcio di rigore. Buono studio.